Ragazzi, voi che giocate giochi da tavolo ovviamente o soprattutto giochi di carte, vi consiglio di comprare le sleeves, le bustine di protezione della Mage Company. Sono di tutte le dimensioni, vedete qui ce l'hanno mandato un campione a casa per farvelo vedere, costano veramente poco, sono veramente prezzi molto competitivi e ogni bustina ce n'è 50. Vedete, nelle varie dimensioni per carte molto piccole si va ad esempio per gli equipaggiamenti di Zombicide che mi viene in mente o carte un po' più grandi per mettere insomma dentro carte come un Deep Madness o anche un Nemesis. E vedete ci sono varie dimensioni, sono molto resistenti in tutte le dimensioni e trovate il link al sito della Mage Company in descrizione per ordinarle. Andateci a dare un'occhiata ragazzi, ci hanno dei prezzi veramente veramente competitivi, infatti anch'io ho fatto un ordine recentemente per farmi arrivare un po' di roba a casa. Dateci un occhio. Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare un gioco un pochino atipico per me, perché lo sapete io sono un asportivo completo, quindi è vera la verità purtroppo. Non mi piace nessun tipo di sport, leggermente forse fin da piccino un po' di Formula 1 l'ho seguita fino a che c'era il grande Schumi o Ayrton Senna, però diciamo non sono mai stato un grande fanatico. L'unica cosa che sono riuscito a vedere, più che altro in televisione poche volte perché era quasi impossibile essendo NASCAR, come vedete, o comunque la corsa di Daytona, qualcosa di... Lo puoi vedere ora che c'è il digitale terrestre, ma un tempo se no era impossibile vederlo in Italia. E più che altro su internet, su YouTube. Mi sono un po' documentato ed è una cosa che ci ho preso la passione, se vi ricordate, col vecchio film. Per me è capolavoro, è un filmetto però, è uno dei film di Tom Cruise che ho preferito, Giorni di Tuono, Days of Thunder, che mi è piaciuto veramente da morire. Mi ha introdotto, cioè più che altro ho visto qualcosa che poteva un po' sembrare tra molte virgolette la nostra Formula 1, molto differente, è il NASCAR, però qualcosa del genere più o meno. Però ho visto queste macchine, la Formula 1 ci ha insegnato a farci vedere delle macchine belle aerodinamiche, belle proprio da corsa, sembrano navi spaziali, soprattutto quelle di oggi, no? Mentre le macchine di Daytona, del NASCAR, sono proprio boli di fatti, cioè pensate unicamente per la corsa, tra virgolette, ghiozza, selvaggia. Cioè, infatti queste gare qui non difficilmente ci è scappato il morto, molto più che in Formula 1. E poi sono veramente, sono gare piene e sempre di incidenti. Già arrivare alla fine, senza aver fatto un incidente, o è se ti rotto, o va a che costa, la Nagambo, o è se è finita all'ospedale, vuol dire che te in prima posizione non ci sei arrivato. E la vedo proprio una corsa rude, capite? È quello che mi è sempre piaciuto. E poi, la pista, soprattutto quella più famosa di Daytona, è un ovale. Quindi si fanno tot giri, tot lap, per girare intorno a questo ovale. Non è una pista molto più articolata come quella che si vende in Formula 1. E Thunder Alley l'ho scoperto qualche giorno fa, tipo un mesetto fa, esagerando una cosa del genere, a cura della GMT Games americana. Infatti, questa è la seconda stampa che ci hanno mandato dall'America. Io ringrazio di cuore la GMT Games per averci offerto una copia per la recensione. E tra l'altro, scritto la sera stessa, nel giro di otto ore, mi ha mangiato a disposto e mi chiede a mangiare l'indirizzo per mandarmelo. Quindi, grazie veramente di cuore, è un onore poterlo recensire. È un gioco di corse di auto, ambientazione ovviamente NASCAR, ed è veramente bello perché poi tra l'altro i tracciati che ci sono dentro al gioco sono anche tracciati veri. Quindi è un gioco che ha i diritti, insomma, per quanto mi sembra che o li abbiano persi o non li abbiano più i diritti. Comunque questo è proprio un gioco ufficiale con i diritti di tutti quanti i team di corsa, appunto, del NASCAR. Ed è un gioco come riporta la scatola dai 14 anni in su, 2 a 7 giocatori. Qui si può giocare in un casino se è una sera, avete presente, quando siete tipo in 5 o 6. Ok, facciamo un gioco però dei Zombicide massimo da 6, all'incontro Predator massimo da 3, le case della follia bo da 4. Qui ci potete far giocare tutti, siete in set a fan a cena, giocate tutti dal primo all'ultimo, anche perché le macchine sono tante, per una durata complessiva che va dai 60 ai 90 minuti. Ed è un gioco di corse, secondo me, veramente, ragazzi, spettacolare. Il regolamento può sembrare un pochino ostico all'inizio, ma letto due volte, e io spero di spiegarvelo bene in questo tutorial, è veramente una cavolata. Unboxing, Thunder Alley, un gioco di Jeff e Carla Horger, e vedete la scatola, insomma, è abbastanza grande, è bella lunga, anche, insomma, abbastanza spessa, perché pesa, è pesicchia, io penso che qui siamo su 2,5 kg, tranquillamente, ed è pieno di roba, è pieno di roba perché ci sono addirittura 4 tracciati. Giustamente non potevi fare né una cosa componibile, né un tracciato soltanto, perché in un gioco di corse, con la solita pista, insomma, inizierebbe dopo un pochino ad annoiare, invece ci sono 4 tracciati e c'è pieno zeppo di roba all'interno. Apriamo! Regolamento di gioco, carta, insomma, abbastanza economica, non è di quelle carte stampate a lucide e tutto quanto, però, insomma, in inglese, eh, ovviamente il gioco non è mai stato tradotto in italiano, e penso non lo sarà neanche mai, perché sarebbe inutile portare il NASCAR in Italia tradotto in italiano, c'è chi è che lo compra? Coridan e pochi altri, quindi non penso che verrà mai tradotto, e questo gioco si ordina direttamente da loro, dalla GMT, dall'America. Plance dei team di corsa, ne faccio vedere alcuni, i vari team che ci sono in gioco. macchinine, con lato bianco, che è il lato quando, ovviamente, la macchina non è ancora stata attivata, e il lato dietro, sfondo nero, che vuol dire che la macchina è stata utilizzata e ha finito il proprio turno. segnalini vari, tipo, che ne so, primo classificato, primo che taglia il taguardo con il punteggio, danni a motori, danni alle ruote, danni alle sospensioni, danni al serbatoio e quant'altro, questi sono tutti i token che sono presenti in gioco. Due mappe, due circuiti disumanamente grandi, e ora ve ne faccio vedere uno, secondo me, il più bello aperto sul tavolino, e guardate tra l'altro quanto sono spessi. Grossissime, bellissime, spettacolari, è questo che pesa tanto, eh, dentro la scatola. Mazzi delle carte evento, e mazzi delle carte che potete utilizzare per fare tutte quante le manovre in gioco. I team in gioco in tutto sono sette, vi ho preso quello nero perché mi piace il nero e ve l'ho fatto vedere prima, comunque, sulle varie schede ci sono i numeri delle macchine, che servono per spostarci le macchine, nel caso vengano rotte durante la gara, quindi se una delle vostre macchinine dovesse essere distrutta, tolta dalla gara, la andrete a mettere sempre sul suo numerino. E sotto, vedete, ogni auto ha sempre il simbolo dei danni temporanei, che vedete qua giù, e i danni invece permanenti da quest'altra parte. Questi si possono risolvere con un pit stop, mentre quest'altra invece ve li tarrete per il resto della gara. Mazzo delle carte evento, queste qui a fine di ciascun turno, poi ve lo faccio vedere dopo, ne pescate una, la girate e vedete qual è l'evento, quello che succede in gioco. Mazzo delle carte race car deck, quindi queste ne dovete pescare. Sempre il numero di auto con cui siete partiti, più uno. Io ora vi faccio vedere una partita a quattro giocatori. In una partita a quattro giocatori ciascuno muove quattro macchinine, quindi pescherete quattro carte più una a testa, quindi cinque carte per ciascun giocatore. E qui accanto c'è la pila degli scarti. Le varie posizioni con i punteggi che potete ovviamente prendere durante la gara, il primo che taglia il traguardo, il secondo che taglia il traguardo, il terzo classificato, fino ad arrivare all'ultimo. Quello che arriva per primo prende questo e guadagnerà i punti che ci sono scritti in rosso. Griglia di partenza, dove dovrete mettere le macchinine in un ordine preciso che ora vi farò vedere. Numero dei giri, sono proprio sul tabellone, quindi questa pista, che è quella di Tenerife in Spagna, ha soltanto due giri, due laps. Quindi nel primo mettete il primo cursore per ricordarvi appunto che è il primo giro. Riepellugativo delle azioni che potete fare con le macchine, più i danni che potete subire alla macchina. In questo gioco potete subire fino a sei danni. Se a fine del turno, quando non farete il pit stop, la macchina avrà sei danni addosso, sarà direttamente rimossa dalla gara perché sarà distrutta. E qui vi fa vedere, che ne so, una macchina con tre danni prende meno tre al movimento. Una macchina con quattro token di danni prende meno quattro al movimento, e così via. Quando ne riceverà sei, automaticamente sarà rimossa dalla gara. In questo gioco abbiamo scelto, come vi ho detto, quattro macchine a testa. Ho scelto colori tipo il viola, il blu, il rosso e il nero. All'inizio, per vedere come dovete posizionare le macchine sul tracciato, dovete pescare la prima carta del race deck, questa qui, ve la faccio vedere alla giro, e guardare i simbolini che ci sono in fondo. Dovete leggerli da sinistra a destra, una macchinina per giocatore, e da destra a sinistra. Quindi qui cosa ci dice? Il primo che deve mettere una macchinina sul posto numero uno è il blu. E il blu decide, boh, che ne so, ci mette la macchinina numero quattro. Tante numeri non contano nulla, eh. Sono soltanto per ricordarveli. Poi il giocatore giallo, che non c'è. Il giocatore nero. Il giocatore nero mette un'altra macchinina qui accanto, perché è il posto numero due. Al posto numero tre ci andrebbe il rosso, quindi il rosso mette la sua macchinina qui, e per ultimo il giocatore viola, che mette la sua macchinina qui. Ora invece si parte da destra a sinistra, quindi li tocca un'altra volta al viola, che la mette sul cinque, e così via. Adesso tutte quante le macchinine sono sulla griglia di partenza, e ovviamente dovrete dare il token del primo giocatore, del current leader, che sarebbe questo qui verde. Praticamente il primo giocatore è quello che ha la macchina più avanti. Quindi in questo caso qui inizia la gara e il blu, perché vi ricordate il blu è sull'uno. Quindi al giocatore che ha il current leader, che è sempre la macchina più avanti, voi gli darete questo token e vi consiglio di tenerlo o vicino alla macchina, o di tenercelo sopra, perché serve anche per capire chi è in cima alla testa. Vi faccio l'esempio, c'è una regola quando una macchina viene doppiata e rimossa dalla partita, se questa macchina che è il current leader dovesse fare un giro intero dell'ovale e superare un'altra macchina che li sta davanti, vorrà dire che quella macchina sarà doppiata e dovrete affidargli questo token qui, l'apped car. Tutte le macchine superate dal current leader, ovviamente doppiate nel gergo delle corse, dovranno avere sopra di loro un l'apped car, che vorrà dire se intro a fine turno questa macchina non riuscirà a riprendere posizione e a superare, andare in testa al current leader, prendere la pole position, questa macchina sarà rimossa ovviamente dalla partita, quindi sarà completamente e direttamente eliminata. Ricordatevi sempre che queste sono le linee della pista, queste sono le linee che passano vicine alla recensione ovviamente, quindi il lato esterno della pista e nel lato interno vedete diviso da una striscia gialla è il pit stop, quindi quando dovrete fare un pit stop la vostra macchina si dovrà sempre spostare dentro queste linee gialle. Nel gioco ci sono quattro tipi di movimento, che ora vi vado a far vedere. La prima è il solo movement, che ora vi faccio vedere come funziona. La seconda è il lead movement, la terza è il pursuit movement e la quarta invece è il draft movement. Questi sono i quattro tipi di azione che potete fare con le vostre macchine da corsa e ora vi vado a descrivere uno per uno. Fate conto che la macchina nera col 19 è l'attuale current leader, ok? Quindi questa è la macchina che ha il current leader e anche il gettone del primo giocatore, del first player, che sarebbe praticamente questo qua. Il first player lo dovete sempre dare al giocatore che ha la macchina in pole position e che praticamente, come ho detto finora, è il current leader. Quando avrete fatto il primo turno di gioco andrete a vedere chi è il giocatore più avanti e gli darete la first position. Nel caso invece ci fossero più di un giocatore, vedete, ce ne sono due, perché magari c'è il 19 e il 4 che sono accanto, darete più token di current leader, quindi questa banderina la darete sia al 4 che al 19, però fra i due dovete scegliere chi è il first player e decide chi è il first player la macchina che è più verso l'interno. Quindi più scalate verso il pit stop, più siete nelle vicinanze appunto dell'ovale interno e andrete a prendere il primo player. Però facciamo conto che in questo turno, come vi ho detto, è il 19 ad avere questo token qua giù. Vi faccio vedere una carta. Nelle carte in fondo non lo guardate mai. La parte in fondo serve soltanto per il setup iniziale, come vi ho fatto vedere, più durante alcune carte evento che vi potrebbero dire. Prendono la terza e la quarta macchina. Voi vedete, la terza è quella verde, la quarta è quella rosa, vi faccio l'esempio. Però non le usate quando andate a giocare queste carte. All'inizio di ogni turno ogni giocatore deve pescare il numero di macchine che aveva in partenza più uno. Quindi se uno dopo un po', dopo, che ne so, 4 turni della gara, rimane con una sola macchina in gioco, comunque ne pesca 5 di carte, eh, perché è quello del setup iniziale. I numeri ci dicono i movimenti, le caselle, quello più grosso di cui si muoverà la vostra macchinina, l'uscita dal pit stop, quindi il valore sotto lo dovete usare soltanto quando uscite dal pit stop per rivettervi in pista, che ovviamente andate più lenti, e qua giù il tipo di danno che avrete fatto alla macchina, perché non tutte le azioni vi daranno un danno, però quelle migliori, questa cavolo, vi fa muovere di 8, vi darà un danno al motore, che lo vedete sono sempre questi token qua. In questo caso è un danno al motore arancione, e il danno al motore arancione è un danno permanente. Quindi, facciamo l'esempio, io voglio utilizzare questa carta, perché non ce n'ho altre, che mi chiede di fare un solo movement, e il giocatore, il primo giocatore, è quello con la macchina nera, come vi ho detto, no? Il first player, il current leader. Quindi, io so che posso fare 8 movimenti. 8 movimenti, li faccio, vi faccio un esempio. Voi contate le caselle e farete 1, 2, 3, 4, e andate avanti fino a 8. Ovviamente, ci si può muovere non in diagonale, in diagonale non vi potete muovere, però ci si può muovere sia su e giù. Quindi, se nel caso la strada fosse libera, potrei anche fare 1, 2, 3, 4, 5, non serve a niente, è un movimento da brià o una cosa del genere, perché non distanzio nessuno, però mi posso muovere su e giù, nel tracciato per come mi pare. Ovviamente, non potete mai passare dentro il pit stop. E questo è il tipo di movimento che posso fare, però ricordatevi che andrò a prendere il danno arancione, che è un danno permanente, quindi ricordatevi che voi avete danneggiato permanentemente, facendo quell'azione, il motore della macchina 19, della macchina nera. Quindi, quel danno lì, permanente, non si potrà più togliere, perché il pit stop può togliere soltanto danni alle macchine temporanee. Quindi, quello ve lo tenete, e quello purtroppo vi rimarrà. Sulla carta non vi dà nessun malus, eh, sia chiaro. Però, ci potrebbe essere una carta evento che vi dice, la macchina che ha il motore navaria arancione, esplode o prende fuoco. E quello non lo potete calcolare. E questo è il primo tipo di movimento, come vi ho fatto vedere, è un solo movement. Quindi, io do il movement a questa macchina qui, e la muovo per come mi pare. Questa è la prima azione. La seconda azione è un draft movement, che vedete, ha una freccia gialla dietro, una freccia gialla davanti, movimento 7, uscita dal pit stop 3, e un altro tipo di danno, che questa volta qui è un danno alle gomme, però, che è questo qui, ve lo faccio vedere, però non persistente. Quindi, questo qui è temporaneo, e lo potete togliere con la fermata al pit stop. Quindi, un movimento del genere, cosa mi dice? Mi dice che io non soltanto muoverò la mia macchinina, ma muoverò anche tutte quelle davanti, e tutte quelle dietro. Quindi, qualsiasi cosa io muova, me lo porterò dietro. Allora, riprendiamo sempre l'esempio, della macchinina nera. La macchinina nera, dietro, ha la 69 rossa, la 2 viola, e la 24 blu. Quindi, se questa si muove in avanti e fa 1, anche queste si muovono di conseguenza, li vanno dietro. Va bene, faccio un altro movimento, 2, e anche queste si muovono di conseguenza, li vanno dietro. Fino a che, col draft movement, questa macchina non decide di fare, che ne so, un terzo movimento, si stacca, non è più linkata alle altre, quindi potrà continuare a muoversi, lasciandosele dietro, non portandosele più dietro. Le macchine si muovono insieme, col draft movement, quando non solo sono sulla stessa riga, ma anche linkate. Quindi, se queste macchine fossero qui, così, non sarebbero linkate, perché c'è un vuoto. Se le porta dietro, finché si muove in avanti, e si porta dietro, non soltanto quelle che ha dietro, ma anche nel caso, facciamo conto, ne avesse una davanti. Quindi, se questa macchina a 19, decidesse di muoversi in avanti, dovrebbe fare, così, 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 e così. Tutte quelle linkate, se le porta dietro. Con l'unica eccezione, ricordatevi, questo proprio da regolamento, che una macchina, questa la rimetto qua giù, una macchina, si muove avanti, spendendo uno, e su spendendo uno, ma solo quando il tracciato è libero. Se qui davanti, io avessi un'altra macchinina, la 69 rossa, io per muovermi in avanti, dovrei sprecare tre azioni di movimento, tre punti di movimento. Quindi, andare da qui a qui, ovviamente, sposta anche quella che c'ho avanti, per forza, non è che la posso distruggere, andare da qui a qui, mi costerebbe tre, perché c'ho una macchina davanti, che mi para, la vista, e mi blocca la strada. Stessa cosa, se la avessi sopra, per spostarmi sopra, dovrei spendere, invece, due azioni. Quindi, uno, uno, tre, nel caso sia bloccato, due, nel caso sia bloccato. Se la macchina l'ho davanti, la spingo in avanti, e io le sto dietro, in scia. Se la macchina l'ho sopra, la spingo sopra. Se invece, l'ultimo punto dove la state spingendo, è il muretto, la state spingendo, verso il muretto, la mossa successiva sarà, spingerla così, e vi andrà dietro, mai davanti. Quando la spingete contro un muretto, questa rallenta, frena, e voi le andate sopra. Quindi, ricordatevi, il draft movement, vi portate dietro, quello che ci avete davanti, quello che ci avete dietro, ma nel caso cambiate corsia, non vi porterete più dietro niente. Ovvio, se cambiando corsia, mi dovessi linkare a queste, mi porterei dietro a queste, con i prossimi movimenti. Però, finché, ma lontano e cambio corsia, le distacco. L'azione del pursuit movement, che vedete, è la stessa, solo con la differenza che sposto quelle davanti. Ok? Quindi, l'unica cosa che sposto, è la macchina che ho davanti. Quindi, stesso movimento, se io, la 4, si dovesse spostare, sposta anche quella che c'ha davanti. Si risposta, sposta quella che c'ha davanti. Fino a che non faccio un'azione per spostarmi, io, non siamo più linkati, perché anche questa chiedeva link, e posso andare avanti e procedere col movimento. Quindi, è la stessa cosa del draft, solo che sposterete la macchina che avrete davanti. Questa, follow the leader, che è praticamente il lead movement, è quella, più particolare, che dovete tenere a mente. Un pochino diversa rispetto alle altre, perché questa differenza dell'altra, di quella di prima, spostate solo quelle dietro, quindi quelle davanti, voi ne le toccate. Faccio l'esempio sempre, se voi avete, voi siete la 69, e vi dovete spostare in avanti, quella davanti non la sposterete. E ricordatevi che, quando spostate una macchina, passandole sopra, e non la dovete spostare di conseguenza, anche questa di conseguenza andrà su, per farvi posto, ok? Perché state chiedendo spazio, state chiedendo strada, siete riusciti ad inserirvi spostandola. Quindi, con questo movimento, voi la spostate, andate avanti, e vi portate dietro quelle che avete dietro. Quindi l'azione di movimento sarebbe questa qui. Quelle linkate, ve le portate dietro. Vi rimuovete, ve le riportate dietro. Però, questa azione è particolare, perché non solo vi seguono nel rettilineo, ma vi seguono anche se cambiate tracciato, andando avanti o sopra. Quindi, se io questa qui, non la volessi spostare, perché mi richiederebbe tre azioni, lo sapete, se le vado addosso, se la sposto, richiedo tre azioni. Quindi, dico, sai che c'è? La sorpasso, vado qui, ok? Quindi ho fatto un'azione, loro automaticamente si spostano, nel posto che ho appena lasciato. Poi vado qui per superare, e loro si spostano nei buchi che ho lasciato. Vado qui, quindi vi seguono. Con questa mossa qua giù, tutte le macchine vi seguono dietro, non solo se vi muovete in avanti, ma anche se vi muovete sopra o sotto. E queste ragazzi sono tutte le regole del gioco. Quando fate un movimento, guardate cosa avete linkato, se è un solo movement vi muoverete solo voi, guardate il tipo di danno che avete preso, e questo è tutto, 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 tutto il regolamento del gioco. Muove il primo giocatore, quello che ha il first player e il lead, è il primo che muove la macchinina, e poi tutti gli altri in ordine orario. Quindi dal giocatore che avete alla sinistra, toccherà un altro giocatore, muovete una macchina a testa, fino a che tutte le macchine saranno state utilizzate, e una volta che tutte le macchine hanno fatto la propria azione, quando ho finito l'azione, la girate dal lato nero. Quindi girate dal lato nero. Quando sono tutte quante finite, ricordatevi che arriva la fase del pit stop. Quando arriva la fase del pit stop, la cosa principale da fare prima del pit stop è girare una carta evento. Quindi voi girate una carta evento, l'andate a leggere e vedete cosa succede. Le carte evento hanno tre tipi di bandiere. Bandiera verde, che la gara procede normalmente, fate quello che c'è scritto sotto, e non c'è nessuna preoccupazione. Bandiera rossa, scusate, bandiera gialla, che è una ripartenza, quindi tutte le macchine vengano bloccate, perché è successo qualcosa, un incidente, una cosa di genere come Formula 1, vengono guidate dalla safety car, e si rimettono in posizione sulla griglia di partenza, quindi numero 1, numero 2, numero 3, e al solito voi dovrete un'altra volta andare a vedere qual era l'ordine, perché nel caso questa, la 19 fosse la prima, dovrebbe essere prima. se la 69 era la seconda, dovrebbe essere messa a seconda sulla griglia, e le rimettete dalla griglia. Nel caso di sculo, passatemi il termine, vi capiti una carta, evento con la bandiera rossa, vuol dire che la gara è stata interrotta, quindi la gara è finita, perché è successo un incidente mortale, o una cosa del genere, e poi a NASCAR succedono fissi, e praticamente con bandiera rossa vorrà dire, tanto è venuta la gatta a trovarci, quindi se sentite mia o è lei, bandiera rossa vuol dire che la gara è stata interrotta, si guardano le macchine come erano messi, e si vanno a dare punteggi per primo, secondo classificato, e cose del genere. Dopo questa cosa qui dell'evento, ve l'ho detta a seconda della bandiera gialla o verde, si fa il pit stop. I giocatori decidono di fare pit stop, tipo che ne so, la mia macchina è 19, ha 3 danni, faccio l'esempio, quindi la sposto qui, almeno che la carta non vi dica qualcosa di differente, che potrebbe dire, spostala nel pit stop, però di 10 caselle indietro, e quindi uno perde la gara. La sposto qui, tutti i danni che avrete sulla tabella, ricordatevi che sul pit stop, tutti i danni temporanei, li rimuovete tutti, tutti, quindi rientrate in gara senza un danno, quelli permanenti rimangono. Fino a 2 danni non succede niente, quando avete 3 token, la macchina si muove di 3 in meno, 4 token, 4 in meno, 5 token, 5 in meno, 6, la macchina brucia il motore, e ovviamente è fuori servizio, e uscirà dalla gara. Quindi, quando avete token temporanei, fate un pit stop con la macchina, le rimuovete, e quando nel turno successivo, rientrerete in pista, dovete sempre rientrare, con il secondo valore, che avete visto sulla carta. Ragazzi, il regolamento di gioco, è tutto qui. Ragazzi, questo è Thunder Alley, ora, ci sono anche delle regole opzionali, e qualcosina in più, quindi magari, una regoletta, di sicuro mi è scappata, però va sicuro, questa è Thunder Alley, ah, poi mi ho dimenticato, quando finite la corsa, prendete i token, che avete visto all'inizio, che sono quelli del tipo, primo arrivato, secondo classificato, terza classificato, e così via, perché ci sono i punteggi, e questo è un gioco che va a punteggi. Quindi, per capire chi ha vinto, in questo gioco, come anche in NASCAR, non è la Formula 1, che se tagli il tracciato per primo, hai vinto la gara. Qui avete più macchine, in lizza, in gara, quindi dovrete fare una somma, di tutti quanti i punteggi, per vedere chi è il team che ha vinto. Magari sì, chi arriva per primo, ha un punteggio disumano, perché ad esempio, il primo ha un 46, per andare poi su un quinto, che ha un 39 di valore. Però, magari a te, ti sono rimaste due macchine in gioco, che arrivano magari prima e quinta. E quel lato ce l'ha ancora tutte, perché ha fatto bene i pit stop, non ha subito danni, eventi, cose del genere, e magari anche se arriva terzo, quarto, sesto e settimo, vi faccio l'esempio, ha più punti di te. Quindi dovete vedere anche tutte quante queste cose, va sul punteggio, del team intero, non della singola macchina. Ragazzi, è già spiegato, è un gioco della madonna. È veramente bello, perché mi ci sono appassionato da morire subito, ed è quello che volevo. Al solito, quello che dico sempre, non è tanto il fatto che il gioco sia perfetto, non perfetto, bello, brutto. È quello che cercavate, sì, basta, punto. Forse è l'unica cosa che mi aspettavo leggermente di più, però ci stanno, non è una critica, e non abbasso nemmeno il voto per questa cosa qui, a differenza magari di The Expanse. però qui delle macchinine piccoline così in cartoncino ci stanno, ok? Anche perché, insomma, fare tutte queste macchinine è normale, anche se, però io penso se non spenderò troppo, non voglio di spendere magari 200 euro per un gioco, scusate che la gatta ha colpito la telecamera, non ho voglio di spendere magari 200 euro di stampe 3D per un gioco che ne costa magari 50, no? Però se capitassi mai di riuscirle a stampare piccoline così, poi le colore ci faccio io il simulino sopra anche per averle in 3D più bellino, però non gli abbasso il voto. Macchine da corsa ci stanno, The Expanse, navi da battaglia, cioè la Donager della Repubblica Congressuale Marziana, che è una nave disumanamente grossa da guerra, non me la puoi fare con un tokenino piccino così, quello non ci stava, però prendere le macchinine va bene. Questo è il gioco che se io avessi avuto da piccino a 12, 13 anni, fine 15, appassionato come ero di NASCAR, mi ci sarei sfinito, allora a quel punto sì che non c'era mare, non c'era giocare a pallone per strada, non c'era nulla, c'era solo questo. E mi galba da morire perché è facile, veloce, troppi token, però alla fin fine dividetevi per le bustine ed è fatta, perché ha il token per i danni. Però mi galba da morire, mi galba da morire è veramente bello, di tattiche, secondo me questo lo mettete a tavola, con degli appassionati di corsi, vi divertite veramente da morire. Date la cattiva, questa è la cattiva di casa, è la Morgana. Ciao a tutti, gioco un pochino anche io, distruggo il tavolo. Mi sa che vuole distruggere il tavolo? Bellissima. E niente ragazzi, veramente bellissimo, consigliato, gli devo dare un voto, e non glielo abbasso per questo fatto qui, però, se gli devo dare un voto, onesto, sincero e tutto quanto, per aver trovato veramente il gioco che volevo io, con le regole che volevo io, me la sento di darglielo tranquillamente, senza problemi, le do un 10 su 10, perché la gatta mi viene in collo, e perché è veramente tutto quello che volevo, da un gioco di Nascar, e un gioco di corse. Quindi, 10 su 10, io ringrazio di cuore la GMT, per avermene offerto una copia per la recensione, e ragazzi, se siete fanatici dei giochi di corse, e di Nascar in particolare, prendetelo assolutamente, tra l'altro spedito, ma è arrivata a casa dall'America in 10 giorni, quindi fa anche veloce ad arrivare. Ragazzi, è uno spettacolo e bellissimo, e poi loro la GMT, fanno sempre giochi simulativi, anche di guerre, battaglie storiche, che secondo me era mondiale, non soltanto sportivi, ma questo è veramente una figata. Lo portate a casa di un amico fanatico di queste cose, finita la prima partita, ve ne fa fan a seconda, vi ci divertirete da morire. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, primo link per acquistarlo, più tutti i link dei nostri social, e niente, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate. Alla prossima!